di narro con la somiglianza da artefacts architettonici manchi per le proiezioni umane figura doppia di nukoll misiuba Miloši il-Turkija figurine Tamera il-Side View, Rare View pro abel manaddu all-eskrippi gledi l-eħu l-indika wopo illi hafna forsi mushafna ma għana idwek išo għut mill-archeologi di hafna o malda al-carri like my own un-kissan Antony Bonanno jiddiskutaw il-fatt jikaw umix figuri feminini al-Statio di Tita Malta k-minsha l-gabli kore il-gombar l-sessu l-l-l-atako miagġara minar vestiari minar minar wejħ ujem suġeriment li istakum urġin a-xu maġaħu għu d-analogi li għaldi il-fatt dal-xu necissatum għal dal-sum ureske di jim personalment maħna biċmanko anki min habba l-fatt il-li a-parglem hafna uturi di kategorikament biħaj d-l-jumma kibur l-remminili però għalla gujida kelli xor tin d-l-jumma d-l-jumma l-jumma l-jumma bagra u 9% kolla għal l-jumma d-l-jumma kibur l-remminili u-mux mas għal l-jumma 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 l-faktur identifiku l-tanta kiburi femminili l-estatuitni l-histori għal l-jumma 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 il 18% ha disqualificato totalmente iniziosa a Fizmina, Carlin Malone, il-evo a un'arri di Fugl-e, la Cagli, la Cagli, la Cagli, il-evo a un'arri di Sardegna, il-evo a un'arri di Fizmina. C'è un'arri di Fugl-e, l'influenza di Nantil-Fugl-e, che si discutono il-evo a un'arri di Fugl-e, che si discutono il Fugl-e, che si discutono il Fugl-e, non è necessario da un' femminile. E' una strana, ma non è una strana, ma non è una strana, ma non è una strana. Anche in abballa fatta, che frajano il cult femminile dal madre godis, il culte soppertitti, che è un cult universali, un ruolo dal vicino. Anche il cult vorain, il legge di si ferite in progetti, il cult valdi non c'è assolutamente la storia del antiparis, o collando il turisticat taccum l'indicazione da figurini di appartirnum al contemporaneo da malta, ma anche a belta malta. To me, this is an oververgling con il comprennish. Ili ah, non è sta cattinu accezzioni. Ma, ne trovo il stess schema da cult il nisi zudu barbaro cittain tittà. Pro, dinia, neftuha all'interpretazioni di appartirnum e di aiutati ancora a un libro da quella di decido di malversioni di interpretare. ma, l'Sleeping Lady di Anna o Malta di a statuetta unica. So, di fitnofs di il dano ma, non stammen, da fuwa l'amment. di a statuetta dinia unica sa fejna fi, inam, inqilma rajt bandora, figura, men duda fuksodda. l'kontest tal post fejn instab di gwa l'poġeo iti kafna shtifena. L'poġeo gwa partin di kien tempju in atta barra aga l'matit vol, kinu kol nekropoli. Nekropoli, greekia, 19, polis, belt. Mena, belt tal 19, nekropolis. Kien instabu maduar il-galit tam di vestimo da sebateler il-dibibwi. Kienetisa txarda il-hawso. Iekillik, terminolġi moderna, i-diaguladam kolla, xer-tuk mamar, għal kien kien post-ilit il-sabu klito erba an-skeletri s'ha a partin. Ma kontlament kienu kolla l-għalit, għalit 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 il-sorterrane. Kul kontest fejn il-stato, il-statuetta, il-tik ċtifem li dinse tatkun il-figura ta' entita' rilda il-ti rapprezenta di after-large. Eta briga. U al-hafna in tarietu lir'ad ua stat intermedium vene al-hagya del-node. Sleep is the sister of life, no, sorry, of death. Sleep is the sister of death, if you argue check the terminology. It is an intermediate state between the world of the living and the world of the dead. Unnaħu li kienem il-kult tal-mating li għad etisistis all-lum, certu, kumendari t-i South America, nonki d-i għadu bi-prantika uħu li kult tal-mating. Di pejn nizlu certu mediumship bejn l-erweħ tal-mating u tal-għai da' piħana li l-lum xamani, lu xe-nitz. Dint istatkun rapprezentazzjoni tal- il-kodes, u dinja cert di għa tal-sess femminili, xanda si għera biħuħuħ, u dinja maħil iħ, u għagħia, definitely, figura femminili, il-jt istatkun il-rapprezentazzjoni tal-lallamara, tal-ħajja u l-l-l-la tal-after life. L-l-la tal-riġenerazzjoni. L-ħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ� c'è un'altra vista in febbra del malta. Dei, ci si vuoi dati di servono gravi goods. Gravi goods sono oggetti domestici, contenenti di liquido, inpsiva, eccetera, eccetera, perché mi dà una forma di vita. Għa, iek d'ibne, non frumandux ha' jo'għar, ci si unu' l'iskopli da'n guglia l'alfañjiz? Uwa s'kopi nunti. L'interpretazzoni jidil, chi n'u jdaqsuo, ma'n ma'n tim, chi n'u jgħu, il-concentu azbalja't, l'annisana inglikon, l'u ma'n jasbon di' il-ruoh bish jatti għal d'il-ħajja, l'ħajja, l'imis xor ta'kello b'zon ta' l'alfaħl materjalni. Allora, c'è accompagnato il progetto dell'affare che non c'è un lavoro, e c'è l'indipendentimento, non c'è l'indipendentimento, ma c'è l'indipendentimento necessario. D'acli importanti però, c'è un'indipendentimento che non c'è l'indipendentimento, che non c'è l'indipendentimento, che non c'è l'indipendentimento, che corredo il pavard dell'affare. L'indipendenticentimento, e l'inipendentimento di un pious rap, e c'è l'indipendentimento di un pious age, che non c'è l'indipendentimento di un pious muscle. Il un pious najbol, che non c'è l'indipendentimento che non c'è l'indipendent. Un uur è un'indipendentimento. Il-vitma, il-vitma, il-vitma. Il-vitma, il-vitma. L-ur l-aħmar, kien u kol ur associat ma'l-haj. Fil-fatt, hafna mill-laga, il-missu bi-giz flogbra, u għara li kunni pratika u diskarnazzjoni, kienmu jizbao bil-redoqer. U l-aħmar i rappresenta il-ħajja muġbis, muġbis il-ħisminit, il-ħberin. Il-ħahna ne notau pel-kult religiuqs dana, metta il-ħinem celebrazjoni ta' addis martri, l-ħuankħin passioni, a-sisi gildes il-ħullu rāhmar tra il-ħenħullu pianeta agġjam ħlħen kħullu differenti ħdiri martirizzazjoni, anche il-ħulq cristen ħih-reprezenta il-ħnħut Ķin taħajja. ma la dama ma quella elementi li indicao il niden kello haja lille di lindin u dinne statuetta istai fun litte rappresenta lalla talfertilità io tal rigenerazione tal haja lillini swaradim fistat intermedium ben il dinja tal hajin o dinja tal majdin xifattin kum zgur kinem assisin lillikinu impraktikal il kult tal majdin u assisin metan semi assisin maik fissirxli bil forz ketdo nikunum tasess maschili a idu di aglis anja personali ladam kin kult femminili mata mish sess lillikinu tasess maschili sess femminili lillikinu di viristakun lillikinu assisin iau xamani hanaitrik setai kum tasess femminili warakologi kipatik kuhna arkeologi lillikinu matriarkali 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 lillikinu lillikinu klausav lillikinu deskesuada fin di divinità di asgure figure femminili edeson ossi scrive ideale osserb u kol gandu kommentazioni peli kult pre-historikum esserb u associat mal mal-rivert mal-regeneration u danu a simbolizmu meħut mel fatt lillik serb imtel oxrateo iftafu fideologijan ili serb maqqqertus minnit joħreċ mēqoštab u jadġeċu i twilet u anki leġizjani i leġizjani il simbolu tal-hugoros i simbolin džan eternità u izaw haqna pu isiġillin tal-paronin għiri janko konti mutan da li juan jie rapprezentati għada life after life chi figura da sempre u neđeċu nāra wafidīn lā lā māra tā freddīvītā dīn 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 Che non volo da gara un rappresentazione taserà. Il Dżabla di un d'Undura Malartia. Quindi il Dżabla da gara l'opo il museo di un'e per il Uscantiglia. Il Dżabla mi c'è ne tvipa, il c'è ne tvipa, il c'è ne attiù, Fittemdium, fissawttemdium, innata d'għewa fuqqxeduk, ro' bixi proteggugwa għal 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 muze. Iħriakke għanna, il tempi ta' għanna, daki simbolu illi jistajgum, jiraprezentu għol il simbolismo tal-ribert, għar kolus d'għan kħin il-kult tal-ħalja. U māk pala simbolin sta' għukħi pedħi tħarāwa kolum għin. I sergu għan ki mħissju għukħi komunita'ji tħibħi fil-farist. Nħmħxmħi fil-bħi sħu d'Europa. Nħmħxmħi fil-farist. Nħmħxmħi fil-farist. Nħħħħi fil-farist. Nħħħi 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 fil-farist. in zoni in vetri, kienu indifnum privatament, jafflu togba a flat, u jifnum ikum fejkumu. Il fatt li zogħ tempri, kienu, posta l-duka ta' t-film, unu importanti. U jifnum fejkumu il cimiterju ta' t-tempio ta' Tarxin, u esxara serpi, ta' odes, di kienu il cimiterju ta' t-gantija. U naka svu, indi pratikament, kul tempio, kienu, i cimiterju ta' t-gantija, l-duka differenzat, l-duka ra' nabem nasta vuc, ma nabem nasta vuc. Kul tempio, skont, kodin Renfru, nalpjodju, 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 Kul tempio, kale ligu, kru glagnu, kאלu kominultā aliha, w k 110, kou dit, kul sederju uglifĭa ta' t-gantija kiala te'n pjajtjok. automaticamente il post che è il collo post-weight, dappi il film che è quello che è il poggiunto. L'unica differenza è che il signo a zero, che è visto, che il tuo quantità tattina post-centralli, ma dappi il QG, il QG, il QG, il QG, il QG, il QG. E questa è la cosa che dice che anche c'è l'ora, che abbiamo con le zone del film. Però il QG, 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 il QG. Il QG, il QG, il QG, il QG, il QG, il QG. affetto elevamento sono sporti, scopriato il QG, il QG, il QG, il QG, il QG, il QG, il QG. e non sapevo un'è il lavoro e non i non ho appartamento. Questo è un lavoro, perché ho avuto un lavoro e non ho avuto un lavoro, ma non ho avuto un lavoro e non ho avuto un lavoro. a dirgli su cecchia. Ah, non speravo che forse il pudim che essi ha già in un'agrica zona disabitata, che poi nasce il tizio di cucchioli cimiteritivo ma si sa che fatti il buon manacuccio. Danua, l'interno dall'albodiù l'iwam monument unico per l'inca. Forse, il templi fuqnard kik el-intarab jista jikunem paralu madag lijem il-Turkijan, għal kemmu ma kthar il-tregittivi da' il-Turkijan mw misha banzati għal ta' kutam nis-en, sax, fuwa zmini kthar il-biet. Karo, għala struttura architettonika taht l'arċ, ta' di kualità sissa meno manacuccio għal 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 hekħal għal għal in un'assistente di un'attacco di un'automobile. Da una volta stavano ben vittori, da qui è il seno, ad questo, ovviamente usano proprio 3,000 programmi, però ovviamente usavano 3,000 BC il nivell il-turizamo ad-zimintuil haffa. Ora nuwa il-hag-mojion il-li kien il-nops da dak il-darba kien n'izisti da dak il-darba kien n'izisti ken il-dog d'oro serebe il-dog d'oro serebe e non fa da zero c'è l'obiettivo che è giocattamente. Gli ho riciclati, gli ho spostati, gli ho mantifo. Ma non esistono. Saro c'è il quarelli, che sono in Brodor, e appunto il Brodor è stato un po' che aveva mantifo il partito. E' una ricostruzione artistica. Per lokal, il Brodorx Erking, la Trattora, più nella, e in l'igliezza in Pitta, il corretore, che è in un po' di giebile maggiore. E' ma che ci sono stati, in silogio, in l'esparsi, in un po' di bila, e la forma da neri giugutum al-naturali, sforzantament, haffna il-soffa, il-slondaw, e nenni haffna, haffna, mill-istatueti, haffna il figlio dell'Ella-Lecca, la nuove, e non c'è stato il tisare, li savo un giocorza, qual è il GILT, qual è il museo della gigantia, e poi lì appartino, lo gioco si udì, proprio nel cimiterio. Non c'è una riproduzione che aveva, un esempio di GILT costituito del Museo del Corso del Vente, che si indica il GILT, che aveva un standard, che si indica il GILT, con il materiale domestico, che aveva i recipienti, che aveva il GILT, e che aveva il GILT, che aveva il GILT, che aveva il GILT. Quattro, che aveva il GILT, doveva il GILT, che aveva il GILT, il GILT, doveva il GILT, doveva il GILT. Ma il GILT, Quindi c'è una pratica che c'è stata utilizzata dalla famiglia e dalla famiglia, che avevano un sacco di fargheria. C'è un po' di fargheria. C'è un po' di fargheria del catacombi, del rabbi, di għuma piktar il-tart, pħabna piktar il-tart, di għen għol fil-rabaio haves seclu għara kristu. Mista ikun il-fatt al-maġarra gugħumma dokumentati fil-katakombi ta-Ruma, ma il-sociħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ� Quindi, l'arriamo, il guardiani tali stessi obbran, kienu bixnajteg jammu il negozio nel fuldo obbran. Kienu bihaw il spazio ta' attijor, innar ma egzaw il famigliam talqabag, fej kienu sattvogġu il gġisem talqabagag, ma che non è stato un negozio, cioè un'evoluzione, ma che non si sta in un'altra campagna, ma che non si allargerebbe una parte in questa zona, quindi non si sta in un'altra zona, ma che non si sta in un'altra zona, ma che non si sta in un'altra zona, ma che non si sta in un'altra zona, il feet, il position, il donu bix riduin replikaw, il ribet, il giuf, ta' l'art. U l'art, kienu tukujan identifikata għal al-dabara, għal ekkja l'u la madre il-pens. Aċqqanna l'mara ti kriat ħajja, il giuhdana, l'art tukuj biħdana ta' til ħajja, u ta' til ħajja, fil forma tal-vergetazzjoni. Sħijer. U allura l'art il-fertilità femminili tizħiħu pol representata fil-fertilita' ta l'art. l-fisana. Uniettu għu fì ħdan l-art, bħix minarġa uniettu yndo. Uwad burad eki kipun ipoġu ġisen pozizjon kankar, tam bħix jimita' u dakiġri peggio femminile, ma è già quasi un più classico. La fedezione, la fedezione è l'Imes, che è il giunnamo, che è il targa, che è l'introduzione al-azmini neolittico Malti, l'introduzione. Il voro è il netto proprio da chi è il giusto, ma il fase neolittica Malti, che è il giusto che è il giusto. Questo è il giusto, i già sono stati, sarà il giusto, il giusto per il giusto è il giusto. i dormitino all'04, la fedezione è il giusto, la fedezione è il giusto sia il giusto per il giusto, non va a venire il giusto per il giusto, Nord, Tempel, Ajarin Nord, Tashim Tuferis, e al Bronze Age. Penandr Tashim, South Center, Skorbalis, Ajarin, Nidra, Center, Borgi Naturi. O da, anuma, ovvia, ta zmini differenti. Ankom, se glede, se glede, dikratza meg, bilde, e iš brakiz ta kulle fazi. Ankom, se glede, dikratza meg, da iš brakazza meg, da iš brakazza meg, ubi dik, nekakam, in si ga fahar ha kullur gris, ga hrmah. Il tempo il primo è che c'è il tempo ovviamente, che non si è avuto il tombe, la con una tombe, l'Isabub's face, la folla differente, la abilità del templi, in Giaia, Gantria, Anca Svincar, 3007 al 3000 B.C. Saflini, l'hytergeo, 3007 al 52. Allora, ci 상o una specifica, c'è ma l'as-tu Jarinari par la riequina in Giaiaia l'intervent da abbandunta, l'wara daħllet forma da kolonizzazjon differenti In l'intero Tarsin 1 is in metaspeccia Tarsin 2500 B.C. D'amma, ti nseglu, d'amma, colla round figures, ma che vissi l'amma precizi, colla ixtu alla round figures, tu di nieres, bixna i teg round figures, bixi għattu separazioni netta din fazi goħra. Non avevo lì, raffli, erano 2,000, ci ho utilizzato tutti i 3,000, torri anni avrò 2,000, a sabbi, ha il mondo, ma è avvento il mito, però l'indica break, si è in 2,500 o 2,500. Divo di spazio, metà, edzier, chepterai, ci c'è l'opantona, ti non c'è la l'opantona, ti non c'è la l'opantona, ti non c'è la l'opantona, ti non c'è l'opantona, ti non c'è la l'opantona, ci stai con, diciamo, polsica epidemia, polsica open population, tien, vizori, ov deles, c'è la percorso il really insiste, intitfindenidenci che il pallone ul'opantona, di si all'opantona intonanza, ti produe ci fukal. Inoltre ogni parte è stata incontrata al Чтобы Hotel la, un progettino del problema ma nafugli. Nacobis, il-li tempi d'evo bantona. Unafugli, kina poplui, horti, vizel classifikal, all-tarxidi, taht, il-bayli, il-tazmin, bronz, axtfu il tempi da tarxin, sabotrakċin, da dal poplu sdiet. Fuhar differenti, odot dal bronz, u urni činerari. Urni činerari. Ilikinu containers, da fuhar, bill da dit ta kribiċin. Ilikinu urni činerari. The ashes of the red. Ilikinu urni činerari. Ilikinu urni činerari. Kwa khar diferenti. Poplu diferenti. Illini ili ricicla lokal a scopi diferenti. U zaqpa la cimiteri. Adek, ili tarxin tu, un izle paħan. Okaħnao bronz ejħu. Aškidem poplu igor u urkupa a scopiħit diferenti da neho. Poħsi sadakizmini, ili tarxin. Għi abandunat kiħi knew kihnafu binu abandunat iħi awaħlu. Natura tarġja idġi mu fiċxxxiħi. Anche il fatti di ticpe vegetazione che fa il Giebe, specialmente si c'era i farra di un blatt, è stato un metà waspudone, il tempio c'è già già quasi distrutto, io parenti, parzialmente distrutto, ma la fu una pochissima, e la poteva affluci sul Giebe, il sabo, dal layer, dal dronz, fu il layer non litico. Volev bravo, li tenen intervent iktar recenti, iktar modell, lindappli originariamente il tempio. Il sabo, non si spiccia, ma il nostro esempio, lindia, 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 lindia. Il sabo, non si spiccia, ma lindia, 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 lindia. Un'eccana schema, teoria. La riposizione agricola, lindia, 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 lind e c'è il primo appunto il «cettell'altro», ma non c'è il «poggiore», ma non c'è il «cettell'altro» ma non c'è il «cettell'altro» ma non c'è il elementi inni għisdġil-nbāl situazioni diversi ed-ħħħtu. Tiħħn vāt laħħaj, kħħħuñi ħneħ, na rāgħuġġħu ħħħħuñn mātħħuħiħħuħħuħuħħuħħħuħħuħħuħħħuħħ, piħinċlietu. Dini għa schema, illi tiċlupo ruħ, ma i data, ma i urtasnigmo. Iħis iħtis, iħuħa proċess, iħs iħu overnajt. Ima, razd interessantio, taħħalda piħisħ. Talraw pinda repercussjoni iħġ ninċmin bikri talbidu tall'agricoltura għal zniħi tħerreġenti che in un vajt, astaspazio l'ambinzjoni l'incrocio dell'Edovolo del territorio tagliato, in cui si spiega il DG Duvenito. La guerra è la prima giusta, questi sono i classici, e la Bibbia è una propria, la Bibbia è stessa, i Babiloni, i regiziani, i seriani, la storia classica, gribi, romanti, eccetera, quale è l'impolto, e il saluto, saluto da talum, che è tappenuto. N-andikinat l'acchari, l'acchari, c'è l'unico, slide. Ma che compongi, sto a sì, che hanno fatto suggerire sul passaggio, nella Bibbia è un'attività, non è tutto quello, perché apprende il sogno, Alessandro Barco, si parli scuole del padre, io, non sembra di un sogno, che ho fatto. Non lo scuole, ma non sopendo. ma non si spvii. Ma il sogno è un sogno, perché è un sogno. Ma il sogno è un sogno, Ma che sarebbe un'ottima accettata? Non è un'ottima accettata, ma non è un'ottima accettata. Non è un'ottima accettata? Sì, la nostra prescrizione al pre-release di questo momento è finito con il pre-release, ma è un'ottima accettata di un'ottima recensione, non è un'ottima del 2020. Non è così, ma è un'ottima accettata. una testa scattata o esibò parte l'affari di giallo nel vetrino ma di maratoni ok grazie grazie